Undicesima Domenica del Tempo Ordinario, dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, Gesù diceva alla folla, Così è il regno di Dio, come è un uomo che getta il seme sul terreno. Dorma, ovegli, di notte o di giorno, il seme germoglia e cresce. Come è, egli stesso non lo sa. Il terreno produce spontaneamente prima lo stelo, poi la spiga, poi il chicco pieno nella spiga. E quanto il frutto è maturo, subito egli manda la falce, perché è arrivata la metitura. Diceva, a che cosa possiamo paragonare il regno di Dio, o con quale parabola possiamo descriverlo? E' come un granello di senape, che, quando viene seminato sul terreno, è il più piccolo di tutti i semi che sono sul terreno, ma, quando viene seminato, cresce e diventa più grande di tutte le piante dell'orto, e fa rami così grandi che gli uccelli del cielo possono fare il nido alla sua ombra. Con molte parabole dello stesso genere annunciava loro la parola, come potevano intendere. Senza parabole non parlava loro, ma, in privato, ai suoi discepoli spiegava ogni cosa. Commento al Vangelo della Domenica di Papa Francesco Il Vangelo di oggi è formato da due parabole molto brevi, quella del seme che germoglia e cresce da solo, e quella del granello di senape. Attraverso queste immagini tratte dal mondo rurale, Gesù presenta l'efficacia della parola di Dio e le esigenze del suo regno, mostrando le ragioni della nostra speranza e del nostro impegno nella storia. Nella prima parabola, l'attenzione è posta sul fatto che il seme, gettato nella terra, attecchisce e si sviluppa da solo, sia che il contadino dorma, sia che vegli. Egli è fiducioso nella potenza interna al seme stesso e nella fertilità del terreno. Nel linguaggio evangelico, il seme è simbolo della parola di Dio, la cui fecondità è richiamata da questa parabola. Come l'umile seme si sviluppa nella terra, così la parola opera con la potenza di Dio nel cuore di chi la ascolta. Dio ha affidato la sua parola alla nostra terra, cioè a ciascuno di noi con la nostra concreta umanità. Possiamo essere fiduciosi, perché la parola di Dio è parola creatrice, destinata a diventare il chicco pieno nella spica. Questa parola, se viene accolta, porta certamente i suoi frutti, perché Dio stesso la fa germogliare e maturare attraverso vie che non sempre possiamo verificare, e in un modo che noi non sappiamo. Tutto ciò ci fa capire che è sempre Dio, è sempre Dio a far crescere il suo regno. Per questo preghiamo tanto che venga il tuo regno, è Lui che lo fa crescere. L'uomo è suo umile collaboratore, che contempla e gioisce dell'azione creatrice divina e ne attende con pazienza i frutti. La parola di Dio fa crescere da vita, e qui vorrei ricordarvi un'altra volta l'importanza di avere il Vangelo, la Bibbia a portata di mano. Il Vangelo piccolo nella borsa, in tasca, è di nutrirci ogni giorno con questa parola viva di Dio. Leggere ogni giorno un brano del Vangelo, un brano della Bibbia. Non dimenticare mai questo, per favore, perché questa è la forza che fa germogliare in noi la vita del regno di Dio. La seconda parabola utilizza l'immagine del granello di senape. Pur essendo il più piccolo di tutti i semi, è pieno di vita e cresce fino a diventare il più grande di tutte le piante dell'orto. E così è il regno di Dio, una realtà umanamente piccola e apparentemente irrilevante. Per entrare a farne parte bisogna essere poveri nel cuore, non confidare nelle proprie capacità, ma nella potenza dell'amore di Dio. Non agire per essere importanti agli occhi del mondo, ma preziosi agli occhi di Dio, che predilige i semplici e gli umili. Quando viviamo così, attraverso di noi rompe la forza di Cristo e trasforma ciò che è piccolo e modesto in una realtà che fa fermentare l'intera massa del mondo e della storia. Da queste due parabole ci viene un insegnamento importante. Il regno di Dio richiede la nostra collaborazione, ma è soprattutto iniziativa e dono del Signore. La nostra debole opera, apparentemente piccola di fronte alla complessità dei problemi del mondo, se inserita in quella di Dio, non ha paura delle difficoltà. La vittoria del Signore è sicura. Il suo amore farà spuntare, farà crescere ogni seme di bene presente sulla terra. Questo ci apre, alla fiducia e alla speranza, nonostante i drammi, le ingiustizie e le sofferenze che incontriamo, il seme del bene della pace germoglia e si sviluppa, perché lo fa maturare l'amore misericordioso di Dio. La Vergine Santa, che ha accolto come terra feconda il seme della Divina Parola, ci sostenga in questa speranza, che non ci delude mai.